Come è presentato in congresso nazionale, il punto centrale della nostra missione come nuovo comitato esecutivo è quello di mettere al centro della nostra federazione la figura dell'agente immobiliare. Questa piattaforma che è stata progettata e avvede la luce in questi giorni è sostanzialmente una piattaforma che permetterà agli agenti immobiliari FIAIP di poter aderire a questa piattaforma e poter svolgere la completa attività dell'agente immobiliare supportato dai sistemi informativi. Il cliente potrà partecipare in maniera interattiva ad alcune fasi della valutazione degli immobili e quindi permetterà al cliente di avere in tempo reale una sorta di report di quello che sta succedendo all'interno della piattaforma rispetto agli immobili che lui ha voluto affidare a CercaCasa.re. Il cliente è sicuramente quello di avere delle risposte più veloci e l'opportunità, la possibilità anche di avere cartaceo eventualmente ne abbia bisogno in tempo reale in qualunque ora della giornata. Per l'agente immobiliare sicuramente quello di partecipare a un grande progetto che è della federazione che porta lavoro agli associati, principalmente questo dal congresso esce questo ed è uscito questo quindi la federazione ha cominciato a scendere in campo per poter portare il lavoro ai nostri associati. Come tutti i progetti ovviamente ha necessità anche in corsa di alcuni cambiamenti, abbiamo fatto alcuni cambiamenti anche in relazione all'inserimento della norma FIAIP che è stata normata ad aprile di quest'anno e quindi abbiamo voluto immediatamente, visto che eravamo in marcia per la progettazione e per l'esecuzione di questo progetto, inserire all'interno della piattaforma Cerca Casa Puntore è anche una piattaforma dedicata alla FIAIP, quindi alla certificazione dell'operatività dei nostri agenti immobiliari.